Ora per concludere vi ricordo i fatti principali di oggi di cui ci siamo occupati in questa edizione avendo come ospite Marco Pannella. La borsa riprende ovunque, gli scioperi il governo farà ordine ma non si sa né come né dove né quando, un missile contro Bagdad, Nordio risponde sul perché gli ATR 42, cioè i colibridi alla Italia, sono fermi, si è concluso oggi a Roma il simodo, un simodo che farà discutere, l'America ha festeggiato la piccola Jessica McClure, la bimba salvata in un pozzo. E ultima notizia dalla Riteto, il vertice, il famoso summit Reagan e Kordachoff avrà inizio il 7 dicembre a Washington. Grazie, buonasera e buonanotte. Grazie.